Pompei, domenica partita importante contro l'Olimpia Nionese, soprattutto perché state vivendo due momenti buonissimi, sia voi che loro. Voi dalla vostra avete sicuramente il voler dare continuità in casa. Buonasera, sì, sicuramente loro è un'ottima squadra, come anche noi. Veniamo da momenti positivi entrambi e vogliamo fare bene. Sicuramente qui nel nostro stadio vogliamo portare dalla nostra parte ancora di più i tifosi, come stiamo facendo con queste ultime prestazioni. A Recanati abbiamo fatto un buon test contro una grande squadra. La partita prima meritavamo, abbiamo pareggiato, quindi veniamo da diversi risultati utili consecutivi. e quindi vogliamo continuare a fare bene e trovare il risultato. Mister Pizzi dell'Olimpia Nionese ha detto che noi vogliamo vincere. Ha buttato subito il guanto di sfida, già dal lunedì. C'è però una vastese che ha mostrato nelle ultime partite soprattutto grande personalità, perché anche quando è andata sotto è riuscita a rimontare e far vedere delle bellissime cose. Sì, qui sarà difficile vincere, perché ripeto, veniamo da un buon momento e appunto stiamo trovando la quadratura, stiamo facendo bene e niente. Appunto abbiamo sempre ribaltato la situazione nelle ultime due partite, perdevamo, siamo riusciti con personalità a trovare la via del gol e addirittura domenica a vincere. Stai vivendo comunque un buon momento anche personale, buone le tue ultime prestazioni, obiettivo tuo personale in questa stagione? Guarda, sì, in queste ultime partite sto facendo bene, mi sto rilanciando e niente, spero di far più partite possibile, sto sempre a disposizione del gruppo, dei compagni, mi trovo bene con i ragazzi, la società, la città, e quindi voglio far bene e continuare a questo gap positivo che ci può portare a toglierci belle soddisfazioni. E poi a livello personale a far bene appunto.